Buongiorno, siamo con Giuseppe Di Gimignani che è il preside dell'Istituto Locatelli. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, ci troviamo in quella che molti hanno definito e continuano a definire seconda ondata e di riflesso anche il mondo della scuola deve adeguarsi. Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri impone un minimo di didattica a distanza da qui al 24 di novembre. Nel suo istituto come ci si sta organizzando? Per noi non è una novità, non l'è stata l'anno scorso. Noi siamo partiti l'anno scorso subito, immediatamente, il 26 febbraio appena si è chiusa la scuola con la didattica a distanza. Quindi eravamo già attrezzati da diversi anni, registravamo le lezioni. Quindi per noi non è stata una novità e nemmeno quest'anno chiaramente stiamo lavorando con la didattica a distanza e quindi non ci crea nessun tipo di problema. Il problema, ecco, quello che si è fatto poco, ritornando un po' sulla scuola, è quello che si è fatto poco durante l'estate per organizzare l'anno scolastico che è partito un po' così e lo sbaraglio senza nessuna certezza. Questa è un po' la riflessione che io ho fatto in questo periodo. Di là di tutto, sì, la didattica a distanza funziona, però bisognava anche fare qualcosa di più per vedere se si poteva stare in classe. Sì, sotto questo punto di vista, poi nel suo istituto, come dire, già da tempo esiste una sorta di didattica a distanza, visto che registrare tutte le lezioni, ma un conto è essere in presenza, è un conto seguire le lezioni da casa. È chiaro, è ovvio, insomma, noi siamo pronti perché dobbiamo essere pronti, ma forse era più un servizio, ecco, 10-12 anni fa quando abbiamo inserito tutto questo sistema non pensavo mai di poterlo utilizzare per questo, però era un servizio in più che offrivano alle famiglie perché si potevano rivedere le lezioni, quindi controllare anche l'efficacia della scuola, insomma, ecco, come lavorano tutti, insomma, ecco, c'era una specie di mettere in vetrina un po' l'istituto senza... e quindi, ma invece, adesso invece è una necessità poter doverlo fare e ovviamente non... questa non è che... la didattica in classe è un'altra cosa, noi come Locatelli poi siamo stati da 30 anni sul... soprattutto, ecco, il nostro buon nome esiste pure, soprattutto per la vicinanza ai ragazzi, come... quindi di farli sentire una squadra, insomma, no? Questo purtroppo a distanza è molto più difficile. E le famiglie in questo discorso che tipo di riflessioni fanno? Le famiglie, ci sono quelle che hanno più paura, che chiaramente preferiscono, diciamo, possiamo andare avanti tutto l'anno a distanza, altre invece che preferiscono stare a scuola, insomma, ecco, anche qui si dividono un po', diciamo, in percentuali, se non uguali, però si avvicinano, insomma, ecco, i due gruppi, che uno è per la didattica a distanza, perché, insomma, hanno paura in casa, c'è il papà che sta malo, il nonno, eccetera, quindi possono riportare chiaramente il virus in casa, insomma, e questo è un po' le paure delle famiglie. Altri invece che dicono, vabbè, bisogna conviverci con questa cosa e bisogna andare avanti, insomma, ecco, un po', la famiglia sono un po' di vista, questo punto di vista. Ovviamente la scuola, come diceva lei, è ripartita con tante incertezze. Sì, sì, come dicevo prima, incertezze, soprattutto, insomma, si è pensato, io non voglio fare polemica adesso, perché un momento è difficile, però tutta l'estate si è parlato dei banchi a rotelle, una grande, così, qualcosa che non ha significato, insomma, investire su che cosa, su qualcosa che non è, che il bancho a rotelle cambia il banco normale, il bancho a rotelle, che ci sia una differenza. Quindi, si è parlato di tutte queste cose qui, non si è parlato del trasporto. Quindi la cosa principale, io penso che sia stato, ecco, quello che doveva essere il trasporto pubblico, il trasporto pubblico doveva funzionare in maniera, cioè, il maggiore, io penso che tutti i casi che si verifero, soprattutto, sono sul trasporto, insomma, ecco, quindi, e qui bisognava, visto che ci sono tante aziende private, che chiaramente sono fermi perché non ci sono giri, non ci sono con i pullman, si poteva intensificare sicuramente il trasporto pubblico. Questa è stata una delle pecche che non, una, una cosa importante che poteva fare il governo che non ha fatto, insomma, ecco, quindi, e si è ricominciato l'anno con, sì, la mascherina, i gel, sì, che sono cose importantissime, ma non, non è che, non, questo non, non, non toglie niente alla sicurezza, non dà niente alla sicurezza, insomma, ecco, così, durante il trasporto. Quindi, poi, tutta una serie di incompenze, di problematiche sono, tra virgolette, state scaricate sugli istituti scolastici, sulla dirigente scolastica, siano, ovviamente, pubbliche o private che siano. Sì, 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 infatti, responsabilità e così via, poi adesso anche il ministro dice che bisogna stare in classe, bisogna stare in classe, ma come si sta in classe, con quale condizione, con quale atmosfera pure stare in classe? Io capisco pure molte famiglie che hanno paura pure, perché effettivamente stare nella lezione in classe significa che i ragazzi comunque lo riportano, cioè, è un veicolo, un veicolo grosso, quello che portano i ragazzi a casa, insomma, perché tra di loro si toccano, si guadano, cioè, non è che, poi sanno di essere sintomatici loro, a maggior parte di loro, quindi, eh, questo messaggio per loro dice, così, eh, ricapisco, sono ragazzi, insomma, 16, 16, 17 anni, che possono, però, sono, è un qualcosa che, veramente, doveva fare molto di più, ecco, non solo dal punto di vista dei trasporti, ma su altre, anche su altri, eh, si è basato adesso anche la storia degli insegnanti, il concorso, adesso, durante, mandano, cioè, ci sono delle cose che sono nate un po' così, ecco, se passate sei mesi a non fare niente, poi, eh, si va, così, è un po' a cercare di tamponare quella delle cose che, le cose vanno progettate, insomma, ecco, con difficoltà, perché non è facile progettare, eh, in questa situazione, però, andava fatto, insomma, con più, più ricercatezza, eh, soprattutto, come dicevo prima, trasporti e tutto il resto, insomma. Ovviamente anche nel nuovo decreto viene fatta una differenzazione netta tra, tra quelle che riguardano le scuole, le scuole superiori, chiamiamole, chiamiamole così, laddove viene, tra virgolette, incentivata la didattica a distanza, eh, non meno il 75%, io le porto l'esempio l'Abruzzo, dove da domani sarà praticamente al 100%, tranne le situazioni particolari e invece ci sono tutti gli altri studenti, parliamo delle scuole dell'infanzia in avanti, in cui invece al contrario questo tipo di discorso è molto più complicato e bisogna necessariamente percorrere la strada di la didattica in presenza. Questa è una scelta che hanno fatto, perché, secondo me, perché effettivamente le medie, elementari e l'infanzia non viaggiano sui mezzi pubblici, no? E quindi a quel punto il contatto è inferiore, quindi loro possono stare, insomma. Ecco, questa è un po' la scelta che hanno fatto e soprattutto perché le elementari, ovviamente, noi l'abbiamo fatto anche l'anno scorso con le elementari, quattro ore al giorno siamo riusciti con le didattiche a distanza, però è più difficoltoso perché ci vuole, soprattutto un bambino di prima e seconda elementare, deve avere a contatto un genitore o qualcuno che sia vicino mentre fa la didattica a distanza, insomma, se no altrimenti non... Mentre dalle medie in su è possibile, perché le medie si avvicinano ai superiori. Vedo che anche a scuola, noi a Grotta Mare, i ragazzini dalle medie hanno l'iPad e lavorano tranquillamente a distanza, quindi in maniera abbastanza autonoma, insomma, ecco, senza elementare l'infanzia, ovviamente, questo è un po' più difficile, però, insomma, se riuscite a farlo l'anno scorso, poi dipende anche dalla formazione dei docenti, quindi dall'attenzione che hanno, perché molte volte, insomma, coinvolgere una lezione a distanza è più difficile di un'elezione in classe, perché noi abbiamo di fronte a una classe di 20 ragazzi che l'insegnante deve in continuazione, quello che dico sempre ai miei docenti, di intervenire ogni 2-3 minuti e chiamare tutti i ragazzi, perché effettivamente c'è il rischio che uno si distrae, sta lì davanti al computer, già in classe si distrae, un po' di fronte a un computer, si alza, se ne va a mangiare qualcosa, quindi ecco dove è una didattica a distanza che deve essere, anche l'insegnante deve essere, veramente è faticoso, perché deve chiamare l'alunno spesso proprio, durante l'ora, far vedere se ha capito quella cosa che sta, cioè, se lo lasci una lezione frontale non serve niente, perché a parte quelli bravi che erano bravi in classe, ma gli altri si lasciano andare, insomma, non so se ci sono spiegato. Certo, certo, la situazione ovviamente è in continua evoluzione, da qui al 24 di novembre bisogna attenersi a questi aspetti, ma nel vostro istituto come vi state organizzando, o comunque guardando anche oltre la durata del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri? Io da questo punto di vista, ecco, al di là del, io vorrei tornare nella didattica in classe, però effettivamente so che i rischi sono grandi in questo periodo, per adesso, così per prevedere prima di febbraio qualcosa di rientrare in classe è difficilissimo, è difficilissimo perché i contagi, come giorno e giornalmente, aumentano di tantissimo i numeri e quindi c'è un rischio enorme, quindi che la scuola è chiaramente un veicolo, perché insegnanti, le menze, tutto, insomma, no? Quindi i ragazzini che tra di loro giocano, si abbracciano, insomma, è difficile prevedere, è un momento difficile questo, almeno fino a gennaio-febbraio e quindi forse lasciare la didattica a distanza forse è l'unico sistema, ecco, so che è un sacrificio da chiedere alle famiglie e tutto, però sarebbe l'ideale stoppare, insomma, la scuola almeno fino a febbraio, insomma, quindi, mo' vediamo come va questo mese, però secondo me non ci possono essere miglioramenti sensibili, anzi, contrari. Siamo quasi in conclusione della nostra chiacchierata, già l'ultima parte del precedente anno scolastico comunque ha avuto, tra virgolette, questo tipo di situazione, dal suo osservatorio, dalla sua esperienza, si attendeva questo tipo di rischio riprendendo l'anno scolastico o comunque si era fatta questa idea? Sì, sì, perché chiaramente, insomma, ecco, a parte quello che dicevano che c'era la seconda ondata o meno, chiaramente tornando nella vita normale dopo le vacanze sicuramente era, io avevo già, prevedevo una situazione del genere, quindi non è stata una sorpresa, soprattutto perché non si è fatto nulla per cercare di arginarla, insomma, ecco, quindi è un qualcosa che è veramente preoccupante, soprattutto perché si va a unire due anni scolastici, ecco, io ho visto molti ragazzi che sono venuti ai nostri istituti da altre scuole o tipo quelli della scuola media che sono arrivati superiore, mentre i nostri, la scuola media che avevano lavorato tantissimo, si trovano bene, altri invece meno bene, quindi si va proprio a unire due anni scolastici per molti che sono, cioè, a livello di programma, di svolgimento, non tutte le scuole che sono a livello nazionale possono lavorare a distanza, quindi questo è un patto che va a penalizzare molti diplomati, per esempio, l'anno scorso, ma soprattutto quelli di quest'anno, ancora peggio perché vengono l'anno scorso che hanno fatto tre, quattro mesi a distanza e quindi non tutti hanno svolto. Quest'anno si aggiunge le lacune degli anni precedenti, quindi chiaramente è un anno difficile questo per i ragazzi, insomma, ecco, quindi per la scuola in generale, insomma. Quindi niente, quindi l'unica cosa che bisogna potenziare, soprattutto la didattica a distanza, perché è l'unico mezzo per poter far lavorare tutti e in completa serenità, insomma, questo è l'unico mezzo, non ci sono altri mezzi. Grazie, grazie Presidente, buon lavoro e buona giornata. Io grazie a voi, saluto tutti, un in bocca al lupo a tutti gli studenti italiani perché ne hanno bisogno veramente in questo momento e soprattutto ai lavoratori della scuola, soprattutto agli insegnanti che diano comunque nella distanza, ci mettono tanto loro impegno, tanta partecipazione perché è così da far sentire i ragazzi veramente vicini a loro, ecco, anche se è difficile però, ci dobbiamo provare. Ok, questo è l'augurio che rivolgo a tutti i studenti. Grazie a tutti voi, grazie. Grazie a tutti.